Bisognerebbe chiederlo a lui, visto e considerato che noi siamo stati leali sin dall'inizio. Più leali di così, si muore. Noi siamo stati leali anche durante la... Lui fa degli esempi e dice che bisogna rispettare la grammatica istituzionale, per esempio che se c'è un'obiezione la si fa al Presidente del Consiglio, non la si fa attraverso un tweet o un messaggino. Dice che ognuno deve rimanere nella sua materia, non deve entrare sulle materie degli altri. Ha ragione, ha ragione. Allora io faccio... No, io ho semplicemente preso appunti mentre parlava Conte, sapevo che c'era lei. Poi tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Se bisogna rispettare la grammatica istituzionale, bisogna anche rispettare il fatto che prima di fare un messaggio alla nazione, forse almeno dieci minuti prima ti confronti con quelli che sono i tuoi ministri. E forse quello che hai detto alla nazione, magari dieci minuti prima, forse lo dici anche a noi. E non devo ascoltarlo come tutti gli altri 60 milioni di italiani, visto che per un anno io sono stato molto leale nei confronti di questa maggioranza.